Musica Sono vicinette molto economiche e performanti, con un euro si possono fare 20 minuti. Quindi ci sono presenti anche degli abbonamenti molto convenienti, con 9,99€ al mese si possono fare tutti i noleggi che si vuole e con 54,99€ all'anno, l'anno, quindi devo dire poco più di 4 euro al mese, 1 euro a settimana, si possono fare tutti i noleggi che si vogliono. La cosa bella è che con questo passo potete andare in tutte le città dove il movie è presente, quindi oggi siamo presenti a Torino, a Milano, a Reggio Emilia, a Polonia, a Firenze, a Bergamo, a Mantua, a Padova, a Ferrara, quindi con lo stesso abbonamento da 54 euro all'anno voi potete sbloccare e usare una bicicletta in qualsiasi di queste città. Musica 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 Grazie a tutti.